Sono Alessandra Gambino, la diretrizza di Opera Life. Come è nata Opera Life? Opera Life è nata dalla voglia di avvicinare il grande pubblico all'opera, ma specialmente i giovani. Abbiamo creato per questo un film di giovani, perché crediamo che l'opera deve essere fatta dai giovani e crediamo nel futuro, crediamo che giovani per giovani fatti è il nostro mondo, per portare voi tutti all'opera. Grazie a tutti, a tutti coloro che già ti seguono e per coloro che non ci seguissero, www.operalife.it